ciao a tutti e bentornati nel mio canale oggi fare un video che penso che mi porterà al linciaggio mediatico di mia madre ciao mamma tanto lo so che vedrai anche questo video perché tanto non mi ascolti quando ti dico di non vederli molto bene di cosa dovremmo parlare oggi di piercing ne ho qualcuno due o tre due o tre proprio per dire nel senso che vi metterò le foto di qua se riesco non so perché devo un attimo lavorare su questa cosa dell'editing comunque ho dodici piercing sì bambina se stai sentendo sono dodici non ti arrabbiare più che altro perché è una storia curiosa affascinante allora i primi che ho fatto avrò avuto forse un anno e mezzo due e sono quelli classici qua sotto al lobo quello che fanno tutte le bambine no e niente li ho fatti ne ho fatto prima uno da una parte poi mi sono messa a piangere mi hanno illusa mi hanno fatto mangiare gelato e poi mi hanno riportato a fare anche l'altro niente me ne sono fatti che ero molto piccola ho portato per molti anni gli orecchini con la coccinella ad anellino d'oro per molti 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 anni poi ho iniziato a fare dichiarazione di dipendenza elementari e mettermi gli orecchini quelli con le stelle giganti che andavano nel 2007 2008 più meno sì e io mettevo sempre quelli perché non lo so perché tanto me li conficcavo da tutte le parti a destra manca però va bene non importa poi alle superiori verso i 14 15 anni anzi sono partita 13 anni mettendomi di qua sinistra si a sinistra un piercing lungo così con cui giocavo tutti i giorni che però la pallina dormendo mi finiva qua e mi affaceva sempre venire un livido arrivata alle superiori decido di togliere il piercing e iniziare con i dilatatori sono arrivata a 8 mm di dilatazione avevo la spirale leopardata all'epoca bellissima fantastica però non amo i dilatatori nel senso mi piacevano però uno il dolore che può essere soggettivo però comunque dilatare un buco fa male perché non è una roba piacevolissima 2 il problema è che quando lo toglievo per pulirlo puzzava da fare schifo siamo onesti puzzano al che l'ho tolto e tra virgolette un po ingannato mia madre cosa significa che l'ho ingannata quando ho fatto 16 anni volevo farmi un altro buco perché la mia amica che al negozio di piercing aveva iniziato a fare i buchi non è che vende solo piercing però ha iniziato a fare i buchi quindi io volevo farmi un altro buco no al che una sera un paio di giorni prima del mio sedicesimo compleanno menandogliela un po mia madre quella sera mi fa fare sti buchi e ho fatto sempre di qua chip e chop li ho chiamati hanno tutti dei nomi ai miei piercing allora quelli sotto no quelli normali che ho fatto dalla mia no chip e chop sono i primi due gli ho chiamati chip e chop perché li ho fatti insieme tutte e due e niente l'avevo fatto come compromesso per non rimettermi il dilatatore quando in realtà dilatatore neanche volevo rimetterlo però ho fatto questa promessa semplicemente perché io volevo i buchi va bene tolto questo finiscono finisce la mia carriera da minorenne con i piercing quindi sono arrivata quota 4 io sono arrivata 18 anni con 4 piercing tre mesi prima del mio diciottesimo compleanno chiesto mia madre il piercing al naso mia madre non me l'ha voluto far fare no io non te lo faccio fare grazie mamma che non me l'hai fatto fare perché un mese dopo i miei diciott'anni ho fatto questo benedetto piercing al naso che ho qua che si vede pochissimo però meno male perché non volevo una roba troppo vistosa e praticamente niente ho fatto sto piercing al naso ma è stato un inferno cioè io per un anno e mezzo buono non mi sono potuta truccare perché mi si infettava sempre sempre il che sono un po esaurita perché mettendo il brillantino lo perdevo continuamente mi si infettava il buco scleravo perché non stava dentro quindi lo tenevo dritto perché se lo mettevo in curva è successo il mondo questo piercing quindi per un periodo cioè di tutti i piercing che ho con la naso è stato quello che odiato di più infatti ringrazio mia madre avermelo fatto fare prima di 18 perché probabilmente mi sarei offesa con lei che mia me l'ha lasciato fare quindi essendo che ho preso questa presa di coscienza da sole l'ho fatto a 18 anni meglio così e quello al naso l'ho chiamato dichiarazione di indipendenza perché è stato il primo piercing che ho fatto a 18 anni poi arriva il bello arriva il mio orecchio scolapasta ebbene sì il mio orecchio sinistro è uno scolapasta giustamente no ne ho 8 sull'orecchio sinistro ci tengo a precisare che questi 8 che ho fatto in due anni tra l'altro ne che mi svegliavo la mattina mamma vado a farmi un piercing no io mi svegliavo la mattina con l'intenzione di farmelo poi se uscivo e me lo facevo sempre negozio della mia amica che li fa me lo facevo senza cioè senza andare ma ho fatto il piercing no perché io li ho fatti perché piacevano a me e non li ho mai più di tanto esternati agli altri cioè sì quando raccolgo i capelli si vedono però per esempio adesso non si vede cioè si vede che di qua ne ho 3 ma che io di qua vabbè ho le airpods ma che io di qua ne abbia 8 non si vede allora questi piercing due hanno una storia curiosa affascinante gli altri invece li ho dedicati a delle persone che sono entrate e anche uscite dalla mia vita e anche a un mio cane la storia curiosa e molto affascinante allora partiamo dal primo in alto il primo in alto è è l'unico che non è mai cambiato nel tempo come piercing insieme è una grazie moto è una stellina d'argento una stellina argentata è rimasta sempre quella quel piercing non era per allora partiamo dal presupposto che uno due tre quattro piercing non erano previsti ok partiamo da questo piccolo 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 presupposto questi quattro piercing non erano previsti li ho fatti ugualmente il primo la stellina è sicuramente quello che ho previsto meno di tutti perché innanzitutto è tanto in alto quindi all'inizio mi ha dato dei problemi tipo se mettevo gli occhiali da sole contate che l'ho fatto in un periodo che non mi ricordo però si mettevano gli occhiali da sole quindi piangevo perché io dovevo guidare e o mettevo gli occhiali da sole per vedere la strada oppure urlavo di dolore i primi giorni fantastico perché c'ero proprio in cima in cima in cima e gli occhiali ci poggiano sopra l'ho fatto perché la mia amica che fa i piercing quel giorno era fomentata dal fatto che aveva fatto per sbaglio a un ragazzo l'helix che io ho tra l'altro gli aveva fatto l'helix e aveva sbagliato anziché mettergli la pallina in metallo gli aveva fatto la stellina d'oro e quindi fomentata da questa cosa mi ha voluto fare un buco e io li faccio dove lo facciamo che comunque ne avevo già quattro su questo orecchio faccio dove lo facciamo ma si lo facciamo sopra fidati che viene bene viene bene e io faccio va bene stefi facciamo sto buco dove è il problema tanto ormai buco più buco meno non è che muoio niente ho fatto questo buco e questo buco io lo chiamo stellina stellina perché l'ho fatto poco dopo che è mancata la mia la mia cara stellina quindi la mia prima chihuahua di cui ho anche il tatuaggio e niente l'ho chiamata stellina poi visto che aveva forma di stellina la cosa combacia vede rimasta sempre come se una stellina quel piercing non ho messo i brillantini invece su tutti gli altri o i brillantini giusto perché così non mi si vede un tempo portavo le perle quando ne avevo solo 4 adesso che sono diventati 12 tolta la stellina tolto quello al naso quindi gli altri dieci hanno tutti brillantini subito sotto stellina c'è quello che io c'è vabbè c'è l'elix poi c'è quello sopra l'elix e quello sotto l'elix no l'elix è stato il primo che ho fatto e il mio elix avendolo fatto con una mia cara amica si chiama serena il mio elix si chiama serena si serena vabbè un pezzo di cuore siamo crescita insieme una mia cara amica però adesso stiamo dando un po' intermittenza comunque varie lunghe storie sopra l'elix quindi tra la stellina e l'elix ce n'è uno in mezzo che ho fatto insieme a mio amico lui ha fatto l'elix e io mi son fatta quello infatti si chiama albi e ce l'ho da due anni in realtà forse anche di più non mi ricordo quando ho iniziato a farmi bucchi quasi tre anni fa due anni e mezzo fa va bene va bene tutto quindi praticamente ho stellina albi serena e poi arriviamo a quello sotto che si chiama petra si chiama petra quindi sotto elix si chiama petra perché l'ho fatto ben due anni fa a fine marzo duemila e diciotto sì diciotto sì perché diciotto quando la mia amica di firenze petra la mia carissima amica che per me più una sorella che un'amica mi è venuta a trovare a torino e quindi quel giorno tra l'altro mi ha paccato perché lei non se l'è fatto mi sono fatta da solo il piercing e quello si chiama petra sto cercando di andare veloce perché io parlo tantissimo sotto petra quindi andando a scendere abbiamo ali questo è uno degli ultimi piercing che ho fatto in realtà ali sarebbe alessio quindi il nome di mio fratello non avendo ancora avuto possibilità di poter fare altro perché sto progettando un tatuaggio che includa anche lui anche se ne ho uno sono in progettazione mia madre rimarrà scioccata da questo video però tanto ma ormai ti devi rassegnare ho fatto il piercing perché visto che ormai io tra le mie fisse ho scoperto di avere questa fissa di dare i nomi ai piercing quello l'ho chiamato ali quindi abbiamo stellina albi serena petra ali sotto ali abbiamo gli unici due piercing che non mi ha fatto questa mia amica al di fuori di quelli sotto che ho fatto la bambina quindi quelli sotto che ho fatto la bambina non li contiamo cioè quelli là ormai ciao è stato bello pinto e durato poi sopra questi due che mi ha fatto fare mia madre la bambina ne abbiamo due che mi sono stati fatti da due persone chi sono allora sotto ali abbiamo maurizio maurizio è il marito di questa mia cara amica che mi fa i piercing voleva provare a farne uno io ormai sono strabucata diciamo che questa mia amica me ne ha fatti tanti di piercing quindi ho detto vabbè tanto lo devo fare oggi mi sono decisa di chiudere l'orecchio perché avevo quelli sopra e poi ne avevo due sotto in mezzo mancavano e era un po vuoto quindi ho detto vabbè li facciamo ormai siamo quali facciamo allora li faccio dai fammelo tu e allora quindi praticamente mi ha fatto questo buco e quindi si chiama maurizio cioè quello il buco di maurizio va bene l'ultimo piercing è quello che invece ho tra maurizio e quello di mia madre cioè quello di mia madre su cui mi ha fatto fare la piccola no questo è un buco che da una parte si è un ricordo dall'altra è una cosa che va bene meli va bene me l'ha fatto il mio ex fidanzato sul canale non ho parlato ancora di questa cosa mi sono lasciata dopo quasi tre anni però diverso tempo indietro forse un anno e mezzo fa un anno fa non mi ricordo ormai li ho fatti cioè ce li ho iniziato a farli due anni e mezzo fa non mi ricordo quando come perché li ho fatti comunque li ho fatti questo piercing me l'ha fatto il mio ex fidanzato perché quel giorno io volevo farmi il buco ma io volevo fare quello sotto petra quindi più in alto a lui non piaceva quindi io cosa gli ho detto io mi faccio il secondo buco da sotto solo se me lo fai tu così io negozio a me mica prendo queste decisioni no e mi faccio solo se me lo fai tu se non me lo fai tu decido io niente dopo dieci minuti a discutere a parlare a fare a pacioccare a destra manca lo convinco e mi fa questo piercing e niente quindi io sapevo che facendoli fare quel piercing quel piercing sarebbe stato suo diciamo che il discorso su di lui è un po' particolare lo apro in un altro video niente quindi sostanzialmente ho otto piercing di qua tre di qua uno al naso fanno dodici ho pensato anche di fare l'altro orecchio però 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 forse era un po' troppo quindi me ne tengo tre di qua e tatuaggi ne ho uno non mi ricordo se sul canale l'ho già fatto vedere ne ho uno ed è la zampa di stellina la mia ciuova che non c'è più che è mancata quasi due anni fa con cui io sono cresciuta mi sono fatta fare la sua zampa mi è stata tatuata il 5 ottobre del 2018 sì e niente adesso sono in progettazione col prossimo work in progress e non sarà niente di così impegnativo niente di così complicato sarà una frase di rage perché sul mio canale non c'è rage no e niente tolto questo vedremo cosa succederà quando riuscirò a tatuarmi probabilmente dopo l'estate però va bene per il resto sono tornata sono sparita nelle ultime settimane ho fatto un po' quello che mi pareva e piaceva mi sono anche truccata apprezzate questa cosa perché non mi truccavo dal 45 e niente io vi mando un bacio ci vediamo al prossimo video ciao